Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi parliamo del Thailand Pass il cui sito internet è attivo ormai da qualche giorno di fatto il Thailand Pass è la piattaforma sulla quale chi vuole tornare in Thailandia deve fare l'application per ottenere appunto questo QR code che va a sostituire il vecchio certificate of entry dove appunto serviranno inserire di fatto i propri dati personali quindi applaudare i documenti che dimostrano insomma le determinate condizioni tra le quali essere in possesso del vaccino, la prenotazione alberghiera insomma tutto quello che serve che adesso vediamo in questo tutorial devo dire che alcuni di voi mi hanno chiesto appunto di far vedere il sito in quanto preferiscono poi fare l'application in maniera autonoma senza passare poi da agenzie, travel vacation, insomma tutti quelli che sono gli intermediari anche se questi ultimi magari hanno dei costi comunque molto molto abbordabili direi quindi ora di cominciare facciamo questo tutorial sul sito e sulle varie fasi dell'application come sempre insieme dopo la sigla prima di cominciare il video come sempre se ancora non l'hai fatto ti chiedo di iscriverti al canale cliccando anche sulla campanellina per le notifiche dei prossimi video, delle prossime live che faremo sul canale in tema Thailandia e ti chiedo anche un like al video per supportare il canale con l'algoritmo YouTube mi raccomando questo è molto molto importante quindi questa è la home page del Thailand Pass abbiamo detto ciò che va a sostituire è appunto il vecchio certificate of entry e l'outcome di questo di questa application sarà un QR code che vi consentirà di viaggiare liberamente di girare liberamente e di essere controllati in maniera molto più rapida in Thailandia perché il QR code di fatto da punto di vista tecnologico consente di avere tutte le informazioni necessarie all'interno direi quindi possiamo cominciare quindi ovviamente non Thai selezioniamo lingua inglese se poi ci propone questo menu choose planning, scegliere il piano che vi compete a sinistra c'è l'exception from quarantine test and go è rientro in trenta senza quarantena poi abbiamo il sandbox program che è ancora attivo oppure l'alternative quarantine che sappiamo insomma è per chi evidentemente non è vaccinato in questo caso noi siamo interessati al rientro senza la quarantena quindi queste sono le condizioni quindi arrivare da un paese insomma della lista l'Italia lo è poi abbiamo il tampone negativo una volta che si è arrivati in Thailandia partire insomma queste sono tutte le condizioni essere vaccinati e ottenere un covid test entro le 72 ore precedenti alla partenza documenti che serviranno passaporto il visa se richiesto se stati più di trenta giorni fondamentalmente la prova della vaccinazione la prenotazione pagata dell'IQ OSH Plus Reservation e la copertura assicurativa almeno di 50.000 dollari direi quindi di procedere clicchiamo su select come sempre vengono insomma ricordate quelle che sono poi le condizioni ovviamente le potete leggere insomma per questo tutorial non sono particolarmente importanti quindi semplicemente dobbiamo andare a scegliere che siamo d'accordo e facciamo una conferma dopodiché insomma entriamo nel vivo di quello che è l'application quindi lo scopo quindi purpose of arrival mettiamo travel departure country ovviamente dobbiamo dirgli Italia ovviamente Italia quindi first arrival port il primo punto di arrivo in Thailandia nel nostro caso sarà su Warnabum airport poi date of arrival ovviamente ragazzi qui quando volete andare mettiamo che io ci voglio andare il 15 gennaio perfetto arrivo qui e ci voglio stare 30 giorni tour group direi no perché ci vado da solo first time visit direi di no a questo punto facciamo register e facciamo confirm poi qui dovremo inserire ragazzi tutti i dati ovviamente ve lo lascio fare perché insomma non è in questo momento necessario però come vedete ci sono 4 menu tendina uno dei dati uno dei dati di vaccinazione uno con dei contatti dove alloggerete l'accommodation e poi l'insurance per ognuno di questi ci sono dei dati da inserire e come vedete qui sotto un allegato da uploadare attraverso il tasto browse file e appunto andrete a fare il pick up proprio del vostro attachment dell'allegato col documento sono tutti dei pdf e quindi insomma non ci sono particolari problemi una volta che avete completato le 4 sezioni quindi dati personali vaccination dove di fatto andrete a uploadare il pdf del green pass contact accommodation anche lì insomma quello che mi manderà poi l'albergo una volta che avete fatto la prenotazione e l'insurance che potete acquistare online tra l'altro qualche giorno fa ho fatto un video nel quale facevo vedere due polli italandesi che secondo me sono molto valide ad acquistare e se decidi di acquistare uno dei due ovviamente avrete un pdf e quel pdf dovrete poi uploadare qui dentro niente di più semplice ragazzi direi che questi sono i passi da completare ovviamente ragazzi fatelo con attenzione una volta che avete fatto poi l'applicazione riceverete una mail automatica di conferma che la vostra candidatura tra virgolette è partita ci saranno dei tempi tecnici però sono molto brevi possono essere anche intorno alle 48 ore quindi due giorni e poi riceverete la risposta e tendenzialmente la mail con in allegato proprio il QR code che è effettivamente fisicamente il Thailand Pass che vi consente come dicevo poi di avere tutto ciò che vi serve poi per rientrare in Thailandia sappiamo che insomma purtroppo per quanto riguarda l'Italia la Thailandia è in zona e fino al 15 dicembre almeno quindi diciamo che tendenzialmente se nello scopo del viaggio avete messo turismo teoricamente o vacanza teoricamente fino a 15 dicembre non è sempre autorizzato quindi valutate poi in base a quando andate che cosa mettere nel appunto nello scopo del viaggio ora torniamo indietro vedete se facciamo qui non die national english qui confermiamo semplicemente che andiamo senza quarantena facciamo select se avete visto con attenzione ora torno a quel passaggio lì qui devo fare conferma vedete c'è il purpose of arrival travel business education insomma travel teoricamente per l'italia al momento non è disponibile è disponibile business è disponibile education return to thailand o other questo other ci può essere immagino qualsiasi cosa magari vado a ricongiungermi una donna con la quale una relazione ovviamente qui ragazzi vautate voi però è chiaro che travel vuol dire turismo quindi di fatto questo poi ripeto ha poi una serie di considerazioni che dovete fare voi ovviamente ragazzi fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate di questo Thailand Pass se avete già fatto un giro sulla piattaforma se vi sembra poi semplice mi sembra a me francamente molto semplice però io è vero che ho già fatto il certificate il tuo ventre che di fatto è identico scrivetemi nei commenti qui sotto per dirmi cosa ne pensate se avete qualche domanda poi così possiamo raccogliere magari facciamo una live nei prossimi giorni ne possiamo ne possiamo parlare appunto così per chiarirci ulteriormente le idee ovviamente ragazzi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto perché poi è importante e anche un bel like al video direi che è la ricompensa migliore che potete fare vi lascio anche in descrizione il mio link a Paypal chi ti vuole fare una donazione al canale è più che ben accetta per supportare poi la produzione di questi contenuti digitali in questo caso per quanto riguarda la Thailandia ragazzi grazie aver visto il video fino adesso come sempre ci vediamo sempre sul canale al prossimo video al prossimo aggiornamento per quanto riguarda la Thailandia a presto ciao